Cruiser! Christian Grey. Piacere, Anastasia è pedofila. Io sono una pedofila. Capisco. Ehm... è per l'edizione speciale della rivista Speciale sulla Cerimania Speciale di.. Si, terrò io il discorso adiben- Non ricordo d'averti fatto nessuna domanda del cazzo se non sbaglio! Ehm... lei è molto gay? Non sono gay. Domando scusa, signor gay. Voglio dire, grey. È una cosa che la appassiona. I cazzoni in Africa. No, Anastasia. Non sono gay. È un maniaco di cazzoni. La fai finita con questa storia e dai! Domando scusa. Due cose. Io non scopo. Sono ancora vergine. È oltre questa porta. Che cosa? L'elicottero è... Quello è un elicottero! La mia stanza dei giochi. La mia stanza dei giochi. Prima che tu dica qualcosa... Sei un ziasucosa? Allora? Che tipo è? Mi faccio un fisting vaginale. Ne vuoi uno? No, grazie. Possono vederci. Cosa mi importa? Per me conti solo tu. Cosciotta mia, come ti desidero. Mio padre è morto quando ero piccola. Mio fratello è morto quando ero piccolo. Sono cresciita con il mio patrillo, Ray. E' morto quando ero piccola. Mia madre è... Ha il marito numero quattro. E' morto quando ero piccola. Mio Dio! Non ricordavo di aver chiesto una storia molto 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 moolto molto noiosa. Non gliene frega niente a nessuno. Cristian Gray è anche un grande fattore della nostra università. L'obiettivo? Voglio punire il pianeta. I miei gusti sono molto singolari, non capireste. Illuminami allora. Ho detto a Taylor di comprarti dei vestiti. Chi è Taylor? Il mio autista. Taylor mi eccita. Non sono gay. Sono edero. Invece sì, invece no. Invece sì. Se fossi Taylor non potresti metterti seduta per una settimana. Che cosa? Dico solo che, ecco, mangiare gazpacho è come mangiare un piatto di gazpacho. Sei molto fortunata che, guarda caso, io ami mangiare gazpacho. Diventerai grasso se stai sempre seduto. Diggielo tu, Anastasia. Cosa sono i dilattatori anali? Puoi avere una carota? Sì, sono io. Ti rimanderò i tuoi libri costosi perché ne ho già una copia, ma grazie per il gesto gentile. Di che diavolo sta parlando? Pronto, sono Osborne Cox e lei chi cazzo è? Anastasia, prendiamo un caffè. Non so chi cazzo tu sia, ma non hai la minima idea di quello che stai facendo. Sono in fila, devo fare una pipì assurda. Pezzo di imbecille. Ehi tu porco, leva le mani di dosso. Sono io. CiccioGamer mi ha denunciato. Che? Salve. No, io sono una pedofila. Oh, devono averle fatto l'upgrade. Perché? Perché non? Perché sono fatto? Anastasia. Christian. Robjow. Identificato, hai capito? Te lo do io l'uccello non identificato. È bellissima. Taylor ha buon gusto. Taylor prende il mio cetriolo. Com'è andata con la dottoressa Green? È andata bene. Ma ha detto che devo astenermi da ogni attività sessuale per almeno quattro settimane. Sai, dopo aver iniziato con la pillola. Che cosa? Ciao.